Un romanzo che parla di guerra ma soprattutto dell'odio per la guerra da parte dei protagonisti. Alcuni plotoni si rifiutarono di tornare in prima linea ma il governo adottò una linea un po' più morbida rispetto alle fucilazioni di massa dell'anno prima. Andrea Ceradini con questo libro scava molto a fondo nella personalità dei personaggi e nelle trame della storia e delle storie della Prima Guerra Mondiale, tra orrori e atti eroici.